La missione principale che noi abbiamo affidato al Presidente, al Consiglio d'Indirizzo e quindi poi anche alla direzione della Fondazione e delle quattro scuole è quello di immaginare un potenziamento dei percorsi didattici delle quattro scuole, cioè una salvaguardia dell'autonomia didattica e delle scelte didattiche delle quattro scuole soprattutto ragionando rispetto alle trasformazioni del mercato del lavoro. Nel caso del cinema, della musica o del teatro evidentemente si tratta di mercati del lavoro che hanno delle caratteristiche proprie, molto particolari e che comunque sono mercati del lavoro in trasformazione in un contesto che è sempre più difficile ma è sempre anche più internazionale, oggi è difficile parlare di mercati del lavoro locale anche in settori particolari come quelli in cui operate voi, per cui un'apertura perlomeno al panorama europeo è assolutamente necessario affinché abbia una qualche efficacia il percorso formativo. Siamo in una fase in cui tutte le scelte economiche, le politiche di bilancio restrittive invogliano il settore pubblico e gli enti pubblici ad abbandonare le attività di formazione non obbligatoria ovviamente. Noi parliamo di scuole molto particolari che generalmente sono gestite da altri enti e non da un comune nel caso appunto della scuola di cinema e delle altre tre scuole. Si tratta di una particolarità che è anche frutto di una storia tutta peculiare di Milano nel settore della formazione e nel settore della formazione professionale in particolare che noi riteniamo va da difesa, va da difesa perché produce del valore, si tratta di formazione di alta qualità che ha dei ritorni anche in termini di occupazione, buona occupazione dei nostri allievi e pensiamo che questo appunto nonostante le difficoltà rappresenti un qualcosa che la città deve difendere.